Oggi torniamo a parlare di rugged phone con il doji s61 pro, uno smartphone che è uscito a luglio di quest'anno parto dicendovi che mi ha sorpreso perché nonostante la fascia di prezzo, un prezzo che vi dirò alla fine di questa video recensione beh ha delle caratteristiche niente male per chi non lo sapesse o per chi non si ricorda i rugged phone sono degli smartphone ultra resistenti pensati e creati per tutti coloro che per esempio o fanno degli sport estremi ma soprattutto lavorano per esempio nei cantieri oppure nei depositi, insomma nelle zone dove c'è carico e scarico delle merci quindi in tutte quelle situazioni dove è possibile che lo smartphone subisca degli urti importanti o delle cadute beh per avere una preoccupazione in meno potete acquistare un rugged phone non mi dilungo ulteriormente, lo vediamo più nel dettaglio subito dopo la sigla Ciao amici di TecnoAndroid, benvenuti o bentornati in questa nuova video recensione noi iniziamo a parlare del nuovo Doji S61 Pro come al solito partendo dalla confezione questa è la classica confezione gialla così come ci abituati ormai a questo brand ripeto questo non è il primo smartphone che provo di casa Doji al suo interno trovate un vetrino di ricambio per i display con tutti gli accessori per poterlo cambiare il manuale di istruzioni, questo lo metto un attimo da parte un laccetto da andare ad installare direttamente sul frame dello smartphone il caricatore brandizzato Doji con il cavo USB-A USB-C ed infine ho lasciato lui per ultimo perché preferisco tenerlo vicino a me durante la recensione che mi potrà tornare utile più di qualche volta ovvero lo spillo per andare sia ad aprire per esempio la slot della sim dove poi vedremo anche possibile andare a mettere una micro SD per estenda memoria ma soprattutto se si vede ha una forma d'uncino dalla parte opposta allo spillo che servirà ad aprire i vari sportelli presenti sul frame dello smartphone e quindi adesso parliamo di lui ovvero il protagonista Doji S61 esteticamente mi sento di dire che è uno dei smartphone, dei rugged phone scusate più riusciti sul mercato la cover con il modello da noi in prova è trasparente però tramite questa incisione qua è possibile andarla a sollevare e incambiarla con un'altra cover in simile legno sempre per questo modello poi troviamo le due camere di cui quella superiore è la camera principale quella di sotto è la camera per la visione notturna che è circondata da un anello LED sulla parte destra del frame troviamo il bilanciere del volume il tasto per andare ad accendere o spegnere il device che integra anche il lettore per le impronte digitali sulla parte inferiore invece appunto se ci andiamo ad aiutare con questo uncino che vi ho mostrato prima al suo interno potete trovare la porta USB-C per poter andare a ricaricare il dispositivo continuando sul lato sinistro invece del device troviamo il tasto smart che ve ne parlo più avanti ma l'abbiamo già ampiamente visto su tutti gli altri device di casa 2G che abbiamo già testato ed infine da qua si accede allo slot per poter andare a inserire o la sim 1 o la sim 2 oppure una micro sd per poter espandere la memoria memoria che è da 128 gigabyte come avete potuto vedere insomma l'uncino serve anche per poter far uscire ecco qua i porta sim e micro sd per la memoria sta dicendo espandibile fino a 512 gigabyte ed infine invece sulla parte superiore trovate l'ingresso per le cuffie con un jack audio da 3,5 mm per il resto cosa dire lo smartphone comunque si tiene bene in mano nonostante il peso di 266 grammi le dimensioni sono di 167,4 x 81,4 x uno spestore di 14,6 mm sicuramente non è uno smartphone leggero o compatto rispetto anche ai top di gamma presenti oggi sul mercato ma ovviamente avendo un rugged phone come potete vedere anche il frame super robusto invece mi sento di dire che è uno smartphone piuttosto leggero rispetto ai suoi fratelli maggiori tuttavia questo design questo frame così solido vi consentono una certificazione IP68 IP69K inoltre lui ha anche lo standard militare 810H che gli consentono di resistere a cadute fino ad un'altezza di 1,5 metri inoltre può andare anche sott'acqua per diversi minuti fino a un metro e mezzo di profondità qui abbiamo un display da 6 pollici HD Plus quindi è una risoluzione di 720 x 1440 pixel peccato perché probabilmente un Full HD Plus l'avremmo preferito di più nonostante la fascia di prezzo vi posso dire che è un display abbastanza luminoso certo non gridate al miracolo se vi trovate sotto ai raggi diretti del sole tuttavia in molte situazioni anche alla luce naturale è abbastanza leggibile da un dispositivo del genere ovviamente non aspettatevi dei colori molto brillanti dei neri assoluti comunque tuttavia vi consente di poter visualizzare i vostri contenuti audiovisivi preferiti ma non è questo il suo focus tuttavia mi sento dire che non mi aspettavo a dei buoni angoli di visione invece però ecco sicuramente un pannello Full HD Plus gli avrebbe dato quello step in più di cui necessita l'audio è mono infatti c'è solo uno speaker sulla parte inferiore del dispositivo non ci aspettavamo per carità un audio stereo su un device del genere però il suono tuttavia c'è da dire che non è molto alto pecca nei bassi ma per quello che è il suo scopo va molto più che bene parlando di prestazioni invece qua troviamo il Mediatek Helio G35 e ripeto non è uno smartphone pensato per essere diciamo super fluido in qualsiasi situazione di utilizzo per quanto riguarda per esempio il gaming noi l'abbiamo testato anche su Asphalt 9 che non è sicuramente un gioco pesante come Real Racing 3 ma è molto più pesante rispetto a qualsiasi altro gioco arcade beh qua trovate alcuni lag ma ripeto su questa fascia di prezzo su questo tipo di dispositivo è più che normale se state cercando uno smartphone con la quale potete anche giocare tranquillamente ed avere un po' di prestazioni in più dovete anche rivolgervi su una fascia di prezzo che è il doppio rispetto a questa qui per il resto invece se non gli andate a richiedere operazioni troppo complesse lui si comporta benissimo ed è fluido sia per la navigazione per esempio nei social come potete vedere vi consente comunque di poter navigare tranquillamente ma anche la navigazione su internet anche la navigazione su internet per esempio non vi dà nessun problema lo potete fare tranquillamente quindi penso che siano anche questi alla fine gli scopi maggiori di voi che acquistate uno smartphone del genere come vedete vi faccio vedere un po' velocemente come si comporta all'interno di un articolo sul nostro sito tecnandroid.it e quindi vedete per questo nessun problema concludono comunque il comparto hardware 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna che come vi ho detto prima è possibile espandere fino a 512 GB tramite micro SD la batteria è da 5180 mAh che è leggermente minore rispetto alle batterie che troviamo sempre su altri raghi ed phone che hanno 5500 mAh ma a volte anche 6000 mAh ma nonostante ciò vi consente davvero un'ottima autonomia a merito forse anche delle prestazioni non elevate di un processore che non è oneroso in termini energetici ma per farvi un esempio lui vi consente circa 7 ore di riproduzione continua per farvi un esempio lui vi consente circa 7 ore di riproduzione di video in streaming continua quindi niente male con lui arrivate davvero a fine serata senza problemi in tante altre occasioni anche al giorno dopo non abbiamo la ricarica wireless penso che sia anche diciamo scontato su un dispositivo con questo prezzo tuttavia sotto la scocca trasparente si può notare quello che è un disegno che faccia pensare a una ricarica wireless in realtà qui c'è il modulo NFC a proposito anche il bluetooth wifi viva voce lettore mp3 troviamo anche la radio FM il modulo NFC che abbiamo detto e le impronte digitali comunque tutto quello che serve su uno smartphone essenziale ragged phone c'è iniziando a parlare invece del software lui è basato su android 12 e questo software possiamo dire che è essenziale apprezzato molto e sicuramente lo apprezzeranno molto anche tutti coloro che acquisteranno questo tipo di dispositivo la scatola porta oggetti dove all'interno ci sono tutte queste app dedicate proprio al mondo professionale infatti trovate questo è il contapassi ma c'è anche il rilevatore di decibel che vi fa che vi dice quanto rumore c'è in una stanza il goniometro per poter andare ad vedere l'angolo di una determinata superficie l'allarme se vi trovate in una situazione di pericolo o per richiamare velocemente l'attenzione anche di altri colleghi come la luce lampeggiante oppure un allarme sonoro oppure far lampeggiare lo schermo il compasso la livella insomma avete capito sono tutti tutte app molto utili per chi lavora per esempio nei cantieri e non solo c'è anche la modalità facilitata che vi ho mostrato anche le scorse volte dove rende lo smartphone molto semplice e veloce proprio per chi non vuole perdere tempo durante il lavoro e vuole trovare direttamente i contatti le impostazioni il calendario l'orologio vedete lo smartphone essenzialmente rimane a questo per tornare indietro andate dentro le impostazioni e fate esci dal desktop ritornate nella schermata principale andiamo velocemente nelle impostazioni vi voglio far vedere di nuovo come settare il tasto smart il tasto smart vi ricordo è questo qui è molto utile perché appunto voi potete decidere di dare un comando preciso facendo un click singolo un click doppio oppure tenendo appremuto a lungo il tasto smart nel mio caso con un click singolo ho deciso di far aprire le impostazioni ecco qua potete vedere con doppio click invece si accende il flash flash che vi posso garantire comunque ha una luce led veramente molto potente e questo di nuovo aiuta tanto in alcune situazioni lavorative particolari ma adesso andiamo a parlare della fotocamera fotocamera che mi ha sorpreso su un dispositivo del genere soprattutto con questa fascia di prezzo qui troviamo il sensore principale da 48 megapixel e una seconda camera da 20 megapixel che ha la visione notturna ecco qui questa è la visione notturna che vi consente di vedere anche perfettamente di notte in una stanza o in una zona totalmente al buio senza neanche illuminazione artificiale grazie ad essa riuscite a capire a vedere tutto invece quello che mi ha sorpreso è la fotocamera principale perché di giorno vi consente di scattare veramente delle foto molto discrete molto discrete perché vi ripeto questo è comunque diciamo un dispositivo entry level anche se di questa categoria di smartphone e comunque diciamo ha un buon livello di dettaglio ovviamente di sera la situazione cambia anche andando ad utilizzare la modalità notturna comunque le foto hanno un bel po' di rumore non sono diciamo molto nitide e non hanno una buona quantità di dettaglio invece i selfie tramite la fotocamera principale da 16 megapixel beh diciamo anche qui per la fascia di prezzo va più che bene vi consente dei selfie discreti ed eccoci giunti alle conclusioni Doge S61 Pro è arrivato sul mercato a un prezzo di circa 240 euro 10 euro in più 10 euro in meno ma tuttavia c'è da dire che spesso trovate delle offerte che lo portano anche a 220 200 euro per esempio in occasione dei Black Friday che sono stati nei giorni scorsi fino a poco fa lui era disponibile a 199,99 euro però ripeto è un prezzo quello di 200 220 euro circa che trovate spesso se state cercando un rugged phone per i motivi che ho elencato durante questa recensione o magari siete anche semplicemente le persone un po' sbadate che rischiano di distruggere il proprio smartphone ogni giorno Doge S61 Pro effettivamente può essere la soluzione ideale perché a questo prezzo avete uno smartphone che è una specie di look cage non sapete che look cage andate a recuperare le serie tv della Marvel su Disney Plus tornando a lui a questo prezzo avete effettivamente un dispositivo veramente solito certificazione IP68 IP69K e lo standard militare 810H di cui vi ho parlato prima mi ha sorpreso la camera per questo prezzo magari ci saremmo aspettati uno schermo full HD plus invece che HD plus tuttavia c'è da dire che proprio per quello che è il suo prezzo non ci si può lamentare e su alcuni punti di vista ci ha anche sorpresi giunti a questo punto invece adesso fateci sapere voi cosa ne pensate del nuovo Doge S61 Pro e come al solito se avete dubbi domande e curiosità perplessità fatecelo sapere qua sotto nei commenti e noi ci vediamo nella prossima video recensione e noi ci vediamo